Dovremmo sospendere l'esame. Le è arrivato un avviso di garanzia. Che succede? Qualcuno ci chiede le spiegazioni! Ve le posso dare io? Tutti lo odiano per colpa mia. È lui che ha complicato tutto fino a questo punto ed è giusto che si prenda le sue responsabilità. Le cose che vi ha detto Cecilia sono vere. Ho avuto paura di perdere voi. L'unica cosa che posso fare è chiedervi perdone. Non sono io che me ne devo andare da questo reparto. Sei tu. Tu ti rendi conto di quello che ha fatto? Sono stata innamorata di lui per dieci anni. L'ho scoperto che hai provocato la morte di un collega e hai cercato di nascondere. Infatti mi assumerò io tutta la responsabilità. Perché? Chi se la dovrebbe assumere? L'ultimo ostacolo per il protessor Fanti. Ma voi chiamatemi Doc. Doc, nelle tue mani. L'ultima puntata. Giovedì prossimo, 21 e 25.